Il finanziamento di 4 milioni inerenti al centro polifunzionale dei Santi Cosma e Damiano è stato confermato. La Regione Campania, con una nota inviata all'amministrazione comunale retta dal Sindaco Cariello, conferma i 4 milioni di euro del finanziamento. Nella missiva firmata dal Direttore Generale, Dottoressa Maria Somma, dell'Autorità di Gestione Fondo Sociale Europeo, chiarisce che, considerata la coerenza della finilità e degli obiettivi perseguiti con la realizzazione dell'intervento, sia la costruzione del centro polifunzionale, si conferma l'assegnazione del finanziamento, a valere sulle risorse FSC pari a 4 milioni di euro. È in corso però il ricorso al Tarra da parte del Comune per il restante 1.200.000 euro.